L'ho trovato uno buono che non costa neanche tanto, bolli, bolli, dallo Carlo, prosecco, bolli, sei bottiglino prendi, facevi 20 euro di spesa e ti dà un cappello, 20 euro di spesa e cappello. Se le cose vanno male, ho fatto un roncino, due euro, un pacco così, un roncino, due euro, quattro pacchi di murci lì, a due euro, però dovevi fare 20 euro di spesa, io in settimana al minimo di buono, 20 euro, 20 euro, l'evoluzione è un buco di spesa. Dopo, quando l'hai raffinato, c'è i bisogni preghi, e dai anche quattro buoni, con un roncino, uno solo, però lui ha detto anche se dovete pretendere il 2019, però costava 10 euro, 11 euro da bottiglino, era veramente buono, se no paghi, faccio 10 euro di spesa. E' il 2018 al bilancio, c'era il promozione di regio. E' il 2018 al bilancio, c'era il promozione di regio. Grazie.